Ha scoperto un vero e proprio delivery della cocaina che dal capologo partenopeo si estendeva fino alla sua provincia, la squadra mobile di Napoli che ieri, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia, ha arrestato un gruppo di pusher legato al clan della Vanella Grassi a cui versava una quota dei suoi proventi per spacciare in tranquillità. Gli investigatori della Polizia di Stato hanno notificato l'arresto in carcere a Daniele Romano, 28 anni, a suo padre Salvatore di 54, alla madre Giuseppina Esposito di 52, ritenuti vertici dell'organizzazione malavitosa, oltre che ad Antonio Russo di 33 anni e a Cristoforo Alfano. Sono tutti ritenuti gravemente indiziati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, reato aggravato dalle finalità mafiose. Insieme alla Polizia di Secondigliano la squadra mobile ha scoperto che le richieste di cocaina venivano formalizzate via telefono con utenze dedicate e utilizzando messaggi cifrati. Gli inquirenti, tenendo sotto controllo le conversazioni, hanno anche scoperto che l'espansione del gruppo capeggiato dai Romano verso il comune di Casoria aveva innescato una fibrillazione con la camorra locale. Uno dei loro pusher, infatti sorpreso durante una consegna, era stato infatti aggredito e picchiato. A dirimere la diatriba che stava prendendo una brutta piega è stato il clan della Vanella Grassi. Da quel momento gli animi si sono rasserenati e lo spaccio dei Romano si è allargato da Napoli, quartieri Secondigliano-San Carlo all'Arena, Vasto Arenaccia, anche ai vicini comuni di Casoria e Casavatore. Complessivamente sono dieci gli indagati, mentre le misure cautelarie messe dal GIP di Napoli riguardano cinque componenti del gruppo di spacciatori.